Quattro manifestazioni di interesse per altrettanti impianti sportivi del Comune di Forlì. Da lunedì a online l'avviso pubblico esplorativo per cercare i futuri gestori di alcune delle più significative strutture sportive del territorio. Oggi abbiamo pubblicato nel sito del Comune di Forlì le quattro manifestazioni di interesse per quattro impianti sportivi comunali per noi molto importanti. Uno è il Monti che si trova alla Cava, uno è Giulianini a Villafranca, uno è il Gotti in via Campo di Marte nel centro di Forlì e l'uno è il famoso Ex-Gil e l'altro il famoso Ex-Gil. Sono quattro impianti in cui il Comune di Forlì farà investimenti molto importanti in quanto nel piano investimenti del 2020, 2021, 2022 ha già stanziato somme tali da poter far sì che tutti i lavori straordinari vengono eseguiti. Per il Polisportivo Monti il Comune investirà nei prossimi due anni 500 mila euro per il rifiacimento del manto erboso del campo da calcio, rifiacimento del campo da basket e la realizzazione di un nuovo campo sportivo. Per il campo di atletica Gotto investirà 300 mila euro per la demolizione degli spogliatoi e la ricostruzione di un nuovo corpo uffici. Per il Polisportivo Alberto Giulianini saranno invece 135 mila euro per il rifacimento della rete fognature e manutenzione dell'impianto. Per tutti gli impianti sportivi comunali sono 7 milioni in tre anni. A titolo esemplificativo, l'intera struttura dell'ex GIL, la struttura storica in Viale della Libertà, verranno investiti circa un milione di euro in tre anni. Un milione per rifare completamente il look all'impianto sportivo, per sistemare le palestre, per sistemare il campo da rugby, i campi da tennis e i spogliatoi. Grazie. Grazie.